Oh io sto benissimo, sono felice, sono pimpante, sono grintosissima perché fra pochissimi giorni inizierà il nuovo programma nostro mio e di Stefania, ovviamente come si chiamerà il programma? Si chiamerà Ora Parlo Io si chiama veramente così perché sapete ragazzi allora, per andare nelle emittenti ospiti di qua, di là e così ci hanno invitato tutti, però una testata soprattutto ha messo un sacco di paletti troppi paletti allora, io e mia figlia siamo stati in galera tanto tempo, vero? quindi adesso non abbiamo parlato mai quando siamo uscite, ora è il momento di parlare